In anni di solitudine il mio amico Fulgenzio ha elaborato una teoria, una teoria che anche altri parallelamente stanno sviluppando, ma che lui ha declinato in maniera originale e me la racconta. Lo so che non mi consideri all'altezza, però ho unito tante idee di tanti altri geni, perché vi ricordo che lui si ritiene un genio, più intelligente di me per avere una visione d'insieme. Dimentica per un attimo che sono un fallito, che nella mia vita non ho mai concluso niente, non farti influenzare da questo per favore. Ricordati anche che la mia è solo una teoria, quindi io non ho chissà quali verità assolute da comunicarti, sto solo indagando su un terreno estremamente scivoloso. Vai tranquillo, sono interessato alla tua teoria, esponila senza problemi. Molto bene, allora la realtà che osserviamo di per sé è un'immagine che costruisce il nostro cervello, facendoci vedere quello che vuole, secondo le nostre passate, esigenze evolutive. Lo sai, no? Che dovremmo vederci il naso, specialmente tu che ce l'hai bello grosso, gli occhi sono sempre un po' incavati, ma il nostro cervello taglia dalla nostra vista il naso perché possiamo avere un'immagine binoculare perfetta, modificando la nostra realtà e discostandoci per comodità da essa. Quindi, in effetti è vero, noi vediamo una realtà che non è quella che dovremmo vedere dai nostri occhi, ma è ricostruita dal nostro cervello. Poi abbiamo una banda molto ristretta di luce visibile e mille altre soluzioni che ci fanno apparire un mondo tanto bello quanto ingannevole. Secondo quanto ho intuito, anche la realtà che noi misuriamo con accurati strumenti è assai distorta. Ti faccio un esempio. Ho un acquario rettangolare con un pesce, piazzo una telecamera frontale, una telecamera laterale. E se non svelo il segreto ad un osservatore, vista la diversa angolazione, lui penserà di vedere nei due schermi che trasmettono quanto viene ripreso due acquari diversi con un pesce ciascuno. La particolarità sarà vedere come si muovono i due pesci. Sembrano infatti muoversi simultaneamente e coordinatamente, come se un'informazione sul movimento passasse istantaneamente da un pesce all'altro e viceversa. Io vi ho messo un esperimento che ho fatto. Ovviamente dovete guardare il pesce che era attaccato con la ventosa, la bocca ventosa, quello che si muove, vedete? Effettivamente è lo stesso pesce ripreso da due angolazioni diverse. Sembrano che siano due pesci diversi perché noi dividiamo l'immagine. Noi quindi possiamo immaginare che questi due pesci che si muovono in maniera così coordinata abbiano una comunicazione che gli permetta di muoversi in questa maniera e questo non è altro che l'entanglement quantistico perché l'entanglement quantistico, vi ricordo, sono due particelle che provengono dalla stessa sorgente, hanno di solito spin opposto e possono essere molto lontane e se una particella viene modificata nello spin, nell'altra, a distanza anche siderale, in maniera istantanea, senza che la comunicazione possa essere avvenuta a quella velocità perché supererebbe la velocità della luce, si gira secondo lo spin opposto alla precedente, quindi riceve come se ricevesse quell'informazione. Ma non è che riceve l'informazione perché è la stessa identica particella e quindi quando tocchi una tocchi anche l'altra perché il nostro universo non è altro che qualcosa che è probabilmente in due dimensioni ma che con il nostro montaggio viene appare in tre dimensioni. Si tratta del solito pesce anche se sembrano due. Io che vedo l'acquario e la sua interezza mi rendo subito conto che si tratta di un unico pesce, tuttavia se noi fossimo in grado di vedere la realtà nella sua interezza ma smontata in quel modo, allontanando gli schermi i pesci ci apparirebbero lontanissimi e allo stesso tempo in relazione strettissima fra loro. Tu sai che ogni parte di un ologramma contiene l'immagine dell'intero ologramma dentro se stessa, quindi è come se ogni particella che vediamo separata in realtà sia la stessa particella, esattamente come nell'esperimento del pesce. L'intanglement quantistico riguarda due particelle originate dalla medesima fonte che allontanatesi a distanze siderali comunicano a velocità istantanea, quindi Weinstein aveva torto, la velocità della luce può essere superata, oppure le due particelle separate alla nascita non sono altro che la stessa particella e lo spazio che le separa una illusione, esattamente come avviene negli ologrammi. Ora, siccome l'universo pare avere avuto origine da un punto, in teoria tutte le particelle dell'universo potrebbero essere tutt'uno, cioè ogni cosa e ad ogni persona sarebbe strettamente collegata con un intero universo, non credi? E questa volta però Fulgenzio ha sbagliato e io gli rispondo. A parte che ultimamente si è scoperto l'universo pare non essere uscito da un punto perché la teoria del Big Bang è stata ridimensionata, ma questo a lui ancora non poteva saperlo. Ma io ho un'altra obiezione da fargli in questa dialettica forte, dura e franca e onesta. Non ci riesco, questa volta devo fargli capire che fa un errore fondamentale. Un conto sono due particelle correlate che partono dalla medesima sorgente, un altro è l'intero universo. Infatti l'entanglime quantistico non vale per il mondo macroscopico, ma solo per il mondo quantistico. E poi, come raccontano chi fa computer quantistici, perdere la correlazione è molto facile. Fulgenzio tra l'altro dovrebbe saperlo. Purtroppo si è talmente innamorato della sua teoria che gli sono calate le fette di prosciutto sugli occhi. Non sarà certo lui a unire la fisica quantistica con l'astrofisica se fa questi errori fondamentali che anche un uomo della strada come me riesce ad individuare. Rispondo cercando di non essere troppo duro per non offenderlo. Caro Fulgenzio, io ho visto alcuni video su internet da varie fonti su questo argomento. Sono molto popolari, devo dire, però ci sono varie teorie al riguardo. In particolare alcuni studiosi di serie dicono attenzione, la fisica quantistica vale solo a quel livello. Nel mondo ordinario le cose sono molto diverse. Quindi se l'entanglement vale per due particelle correlate, non si può pensare che valga per tutto l'universo. Anche perché allora basterebbe, se ho capito bene, distruggere una singola particella per distruggere l'intero universo. Cosa chiaramente non possibile e non vera se siamo ancora qui e tante particelle si annichiliscono all'istante fra materia ed antimateria in ogni momento. Io credo che tu sia un grandissimo filosofo. Te lo dico col cuore, ma che come me nella fisica quantistica non riesce ad entrare. Considera che poi i grandi scienziati e divulgatori sono costretti per essere capiti a semplificare di molto le loro ricerche e dei concetti che spiegano. Quindi è facile creare degli equivoci in questa maniera. Se noi che non siamo addentro alla materia cerchiamo di trarre delle conclusioni a partire da ragionamenti semplificati e quindi approssimativi, ci porteremo dietro le semplificazioni giungendo a conclusioni paradossali. Sarebbe come dire che 2,9 elevato alla nona lo arrotondiamo come 3 elevato alla nona. Sono numeri diversissimi, c'è un avviso. Guarda, lo calcolo con la calcolatrice scientifica del cellulare. I risultati sono 14.507,145975 che è molto diverso da 19.683. Fulgenzio deve ammettere il grave errore concettuale. Mi hai smontato subito. In effetti questo è il dubbio che avevo. È come se nell'universo così stessero un universo infinitamente piccolo, quantistico, fatto praticamente a pixel dove valgono leggi diversissime da quelle dell'universo macroscopico a cui siamo abituati. Ciò che non capisco è come sia possibile dato che si tratta dello stesso universo. Com'è possibile che siano ci siano due fisiche incompatibili se l'universo è uno solo? Te non hai idea di quanto mi aiuti a ragionare con qualcuno come te che trova i bug nei miei ragionamenti e ti viene bene perché nel tuo intimo sei un po' una carogna caro Alessio tuttavia ora ti stupirò perché io ho trovato l'entanglement nel Vangelo e so che il Vangelo ti piace. Io però mi metto le mani nei capelli ormai disperato. Fulgenzio lo nota ma prosegue con un ghigno di sfida com'è a dirmi questa volta dovrai darmi ragione. Il vecchio eremita riprende in mano il Vangelo lo apre da ateo in un punto indicato da uno dei numerosi segnalibri e intona con impeto da improvviso predicatore dal Vangelo di San Giovanni rimanete in me e Dio in voi come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite così neanche voi se non rimanete in me io sono la vite voi i tralci chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e poi secca lo raccolgono lo gettano nel fuoco e lo bruciano se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi chiedete quel che volete e vi sarà dato ora dimmi te se non è un tipo di entanglement questo siamo tutti parte di una vite siamo la stessa vite come le particelle uscite fuori dal Big Bang erano tutte insieme in principio forse erano una cosa sola anche se ora le vediamo separate come galassie lontanissime fra loro ma in principio erano una cosa sola tu mi dici che sbaglio ma lo dice anche il tuo Gesù lui non sbagliava mica cioè noi siamo parte di Dio e non possiamo vivere se ci stacchiamo da Lui perché non ci arriva più la linfa vitale e ci secchiamo non trovi straordinaria questa immagine e qui devo rispondergli caro Fulgenzo è senza dubbio bellissima questa immagine uno dei più bei passi del Vangelo il Vangelo di Giovanni è poi straordinario però questo passo ha anche una serie di altri significati oltre a quello che ci vedi perché oltre al fatto di dire che siamo uniti con Dio Gesù vuole dire probabilmente che ogni uomo è ugualmente connesso a Dio ma anche agli altri uomini e che ognuno ha la stessa dignità che sia schiavo o re capisci che questo ha scardinato e scardinerà ancora tutta quella retorica umana ad esempio dei nazionalismi dei familismi dell'amico o nemico capisci che se noi uomini avessimo un filamento che porta l'infa e collega una all'altra persona saremmo molto più consapevoli dei problemi degli altri molto più empatici perché i problemi del vicino di pieno e rotolo sarebbero anche i nostri certo Alessio c'è questo collegamento secondo me esiste ma non lo vediamo non è qualcosa di telepatico è la nostra esistenza su una diversa base probabilmente siamo davvero collegati potremmo osservare questa interconnessione strettissima che forse ci collega gli uni agli altri fino a risalire al creatore del tutto non pensi che sia un problema di sensibilità che non abbiamo le onde elettromagnetiche esistono ma senza un apposito strumento io non lo riesco a vedere eppure sono lì che passano ovunque Fulgenzio io posso anche condividere questo tuo discorso di fondo anche molto suggestivo tu sei sicuramente come dicevo un grande filosofo ma mi restano molti dubbi perché si potrebbe rospettare anche il fatto che l'universo sia quello straordinario software dove sono state scritte delle leggi precise che permettono lo sviluppo della vita come il legame ad idrogeno dell'acqua liquida ad esempio un universo dove il creatore del sistema è come sua facoltà intervenuto in più occasioni per favorire la crescita morale degli individui intelligenti sviluppatisi dopo miliardi di anni e di ogni mente che è collegata ad una grande coscienza senza la quale scomparirebbe nel nulla ma ora mi chiedo se le cose stanno così intanto il nostro creatore potrebbe a sua volta essere una creatura evoluta che ha creato un suo universo un esperimento un piccolo Big Bang in una provetta magari oppure tutto potrebbe essere stato sviluppato da un computer quantistico come alcuni pensano portando come prova va il fatto che nell'infinitamente piccolo l'universo sia formato di pixel quantici e tra l'altro ha due dimensioni quindi l'universo è reale o d'è immaginario e perché esiste e con la nostra morte resta qualcosa di noi beh proseguiamo questo discorso con la risposta di Volgenzio nella prossima puntata oltre a invitarvi a seguire il mio canale youtube l'eremita vi invito a unirvi e partecipare ai gruppi telegram avventure fungaiole e amici di Volgenzio dove parleremo esattamente di questi temi noi ci stiamo provando a costruire pacificamente il cambiamento e voi che state a fa?